Musica Diciamo che questa sera i tasselli del Mosaico sono andati al posto giusto quindi siamo riusciti a giocare con le tre staniere in modo continuativo abbiamo integrato in modo eccellente Bailey finalmente e anche Emily Correal ha dato il suo contributo Rita partendo dalla panchina ci ha dato qualcosa in più in termini di aggressività e contropiede e velocità che ci mancava magari facendo la partita dal campo forse questo è un equilibrio che potremmo portare avanti adesso è presto per decidere all'All Star Game mi hanno convocato credo per merito più della società e delle mie ragazze perché se io riesco a mostrare quello che riesco a fare in palestre è perché le ragazze mi seguono quindi un ringraziamento va alla società che mi ha dato la stima di guidare questo gruppo e alle mie giocatrici perché stanno facendo quello che gli dico in campo in pratica e quindi anche questa sera abbiamo vinto perché abbiamo preparato bene la partita e loro sono state brave a svolgere il piano partita l'All Star Game è una cosa emozionantissima vestire la maglia nazionale è una cosa che riempie il cuore per me che ho dedicato la vita allo sport è l'apice della mia carriera io ho capito che questo era un gioco molto importante quindi ho venuto forte e ho cercato di giocare confidante e funzionato ovviamente questo gioco è stato molto importante per fare la giocatrici quindi credo che se noi continuiamo con questo momento potremmo potremmo un po' più gioco e spero di giocare in giocatrici Davanti a una partita con simili pressioni come poteva essere quella per San Martino di Lupari contro Cuscagliari perché con quattro formazioni appaiate e quota 10 sapendo che probabilmente Orvieto vincerà a tavolino quella con Chieti due sono gli atteggiamenti o si può completamente sbagliare partita o come ha fatto San Martino stabilire il record di punti realizzati in casa in questa stagione 74 punti con una sontuosa Emily Correal particolarmente nei primi due quarti ma in generale in tutta la partita e soprattutto con attacchi sempre studiati sempre mirati, ben gestiti da Pegoraro Rashid è uscita nel terzo e nel quarto quarto Sandri ha dato il suo consueto apporto ma credo che per l'Eria Bignente le cose migliori sono venute oltre che dall'atteggiamento con il quale le sue Lupe hanno affrontato questa partita determinante anche sull'impiego delle nuove, delle cosiddette nuove Martina Bestagno, Elena Bestagno e Bailey hanno giocato entrambe un'ottima partita Zanetti che era reduce dall'infortunio ha difeso molto molto bene sulle bocche da fuoco più pericolose delle avversarie e quindi è stata una vittoria a tutto tondo una vittoria che ha riportato entusiasmo forte qui nel pubblico abbiamo rivisto il balletto che tanto aveva portato fortuna in occasione della promozione in Serie 2 dopo la partita è tornato in scena il ballo delle Lupe in generale dall'ultima volta che ero venuto qui a San Martino di Luper in occasione della partita persa in casa contro la Spezia tante piccole cose sono migliorate la gente sembra maggiormente fidelizzata c'è maggiore partecipazione al di là delle belle iniziative delle maschere per Carnevale e di altre che abbiamo visto andare in scena in occasione di questa partita è importante però direi che la cultura dell'accoglienza fa di San Martino di Lupari oggi un modello in giro per l'Italia si parla del modello San Martino di Lupari non tanto per la situazione senza pressioni che possono vivere le ragazze pressione del risultato a tutti i costi ma anche perché è bello sentire lo speaker in tutti i palazzetti dovrebbe essere così dire applaudiamo le avversarie di oggi il Cuscagliari come è stato oggi ma tante altre in questa stagione questa è la bellezza di vivere la pallacanestro con competenza ma anche con la consapevolezza che tutto sommato nel periodo che si vive nel mondo in cui viviamo stiamo parlando ancora di un gioco e questo fa di tutti quanti noi dal pubblico alle giocatrici a me che vi parlo dei privilegiati quindi direi che bisogna ringraziare per questo San Martino di Lupari e un po' tutti i palasporti che lavorano in questa sintonia ora sarà molto molto bello aspettare il 16 marzo per vedere Orvieto-San Martino di Lupari sarà una finale per accedere ai playoff vinca davvero il migliore tra queste due squadre ma sarà bello esserci e credo che noi con la TV ci saremo